Buonasera a tutti, sono Grugiani Giordano, numero 4 centrale dietro. Bella partita, molto tirata, non pensavamo, vedendo i risultati dei nostri avversari, comunque ultimi in classifica a zero punti che ci potono dare filo da torcere, però alla fine come facciamo sempre, piano piano le geometrie arrivano, il gioco arriva, abbiamo portato a casa la vittoria. Due parole sul gol, lo volevo dedicare al mio amico centrale e pivot, Simone Stinellis, perché è stato a secco per un bel po' e sono contento che oggi anche lui ha trovato la via del gol. Quindi veramente un applauso a tutta la nostra equip, a tutti i giocatori, i dirigenti che comunque ci danno sempre una grossa mano e ci mettono a disposizione il massimo. Penso che continueremo andando avanti con tutte le vittorie in questo torneo. Questo è il nostro obiettivo, di portare a casa il primo trofeo per il nome della Marlazio. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.